parliamo di questo pranzo dominicano è veramente un piacere però è un po faticoso riuscire a organizzare tutti tipo il nonno che racconta sempre la stessa storia di quando era giovane comunque la parmigiana è veramente buona non come la mia no amore come la fai tu sinufa tenta vuoi sapere come è stata questa domenica 11 piatti fondi da mettere a tavola da lavare 11 piatti piani 11 birre però pure 11 abbracci 11 risate diverse una famiglia sola la nostra è proprio bella come la parmigiana di dopo è meglio quella di mamma